uè non fare il babbo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyudarone da ye bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi pochissimi giorni mancano alla fine dell'anno fine dell'anno che porta con sé comunque tante tantissime novità per quello che riguarda soprattutto il nuovo evento che sta in questi giorni incombendo su fortnite e poi il nuovo australian open 2020 il nuovo torneo ufficializzato proprio da poche ore sul sito di fortnite china che vedrà delle ricompensi in denaro davvero molto interessanti e che sarà possibile accedervi direttamente in game ovviamente dovrete qualificarvi saprete meglio nel corso del video nel video di oggi parleremo anche di come sbloccare il terzo outfit della skin rimedio versus tossina insomma ne parliamo anche da un bel po di giorni finalmente ho delle conferme e posso farvele vedere e parlarle finalmente insieme come vi anticipavo all'inizio un pochettino da sapere quello che sta succedendo per quanto riguarda la mega tormenta di neve e poi una bella sbadilata di leaks per essere sempre informati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a farmi compagnia in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per esserci sempre mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video ma prima la domandina ve la devo fare prima di iniziare il video ci tengo davvero tantissimo ed è una domandina che non riguarda fortnite siamo sotto le feste ragazzi e quindi qual è stato il tuo regalo di natale più bello che hai ricevuto in generale ovviamente non mi sto riferendo a fortnite io ne ho ricevuti parecchi dalla pamina il più bello è stato la luce di super mario quello che vedete anche qua questa qua è veramente bellissima meravigliosa dimmi invece qual è stato il tuo più bello qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le bande e mando alle ciance andiamo subito subito a vedere il primo argomento di oggi e si tratta proprio della grandissima tempesta di neve che si sta abbattendo a cadenza regolare nel game l'abbiamo già vista per la prima volta ieri mattina a partire dalle le 8 in forma molto lieve mentre ha cominciato sempre di più ad ingrossarsi dicono che ci sono due tipi di tempesta leggera e pesante e ovviamente abbiamo anche un timer dove si dice che dalle 00 quindi dall'inizio dell'ora fino alle 0 e 55 la tempesta è sempre leggera gli ultimi 5 minuti invece la tempesta pesantemente incombe tra l'altro voglio farvi sentire l'audio ufficiale della tempesta quindi ragazzi alzate bene il volume se io riesco a trovare dove caspita ho messo il cavo di coso lo andiamo a sentire un attimino grazie a tutti grazie a tutti benissimo come ci sono dei suoni ben definiti e sono proprio segnati anche in base a quello che troviamo nei sempre nei file c'è la direzione del vento e la forza del vento abbiamo una frequenza regolare abbiamo un timer appunto che indica quando deve modificarsi la tempesta c'è una durata ben precisa è un tempo in cui dura questa cosa e ci sono anche delle variabili che ci indicano quanto rimane attiva tutto scritto appunto nei codici sorgenti ma la vera domanda è questa tempesta fa parte di tutto il periodo natalizio oppure qualcosa di più importante vi posso già dire che parliamo parliamo non so neanche cosa voglia dire direttamente del primo evento che ci porterà dal capitolo 1 dalla season 1 alla season 2 di questo capitolo avevamo già visto un po di tempo fa questa immagine al microscopio tra virgolette è una schermata di caricamento quella delle sfide agente del caos e vi ricordo che avevamo notato che proprio lui la gente del caos sta guardando lo schermo principale dove una tempesta di neve si sta formando beh io direi che la tempesta di cui si sta parlando è proprio questa ci sono vedete tantissime altre indicazioni per quanto riguarda l'evento di questa season ad esempio in alto vediamo che la porta di ferro sotto la montagna è sempre monitorata da una telecamera vediamo che la gente del caos sta creando il suo esercito che sarebbe praticamente la versione rossa della skin quella di base che ci danno nel pass battaglia il tizzo slurp azzurro e ovviamente appunto tutto questo farà parte rientrerà nella nell'evento di questa season tra l'altro c'è un fatto molto molto curioso che voglio farvi vedere la skin che è uscita ieri per la prima volta brividi si chiama se andate a notare fa parte del set regno dei ghiacci sapete ragazzi qual è l'altra skin che fa parte di questo set alcuni magari avranno indovinato è proprio il re dei ghiacci quello insomma che ottenemmo nella season 7 come skin finale tra l'altro per chi se lo fosse perso vi faccio vedere due secondi di uno degli eventi che è passato un po più inosservato su fortnite era proprio ragazzi l'evento del re dei ghiacci allora siamo a picco polare dove c'era questa sfera che rilasciò appunto il re dei ghiacci che abbatte una tempesta di neve sulla parte alta della vecchia mappa di fortnite insomma ragazzi un qualcosa che è tutto collegato e che sicuramente più passeranno i giorni e più ci farà capire cosa succederà in questa mappa in questa season numero 1 e andiamo a parlare direttamente al prossimo argomento di oggi ragazzi eccolo qua come si otterrà il terzo outfit della skin rimedio versus tossina semplicemente completando le sfide l'ultimo blocco di sfide che verranno rilasciate tra pochi giorni sapete che ne manca ancora uno dopo il blocco delle sfide prestigio che danno veramente una manata di punti esperienza come notate ragazzi al completamento di cinque o sei sfide che danno tutte punti esperienza otterremo eccolo qua ragazzi il nuovo outfit la nuova variante viola della skin rimedio quindi per tutti quelli che avevano dei dubbi spero di averveli tolti in poche parole e aspettiamo semplicemente che verranno rilasciati abbiamo ancora una manciata di secondi quindi ragazzi eccolo qua il post ufficiale di fortnite china che annuncia il fortnite summer's match 2020 ragazzi ci saranno delle selezioni o meglio delle qualifiche partire dal 28 dicembre dove ci saranno sette match da fare e i player che andranno nella top 4 prenderanno due ticket per gli australian open 2020 ovviamente ne parleremo meglio nel prossimo video io per adesso vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao